Lo avevamo anticipato, abbiamo mantenuto la promessa, non potevamo non mantenerla, Laura Pasini, Viaggio Antonacci! Ello, ben arrivati! Cos'è questa tristezza? Applausi! Applausi! Anche perché abbiamo una serie di ospiti, fanci e di tutto. Ragazzi, ben arrivati, come state? Una volta che abbiamo la clacca, scusa. Benò, esatto, brava. Allora, sì, noi siamo benone, come stiamo, Viaggio? Come ci vedete? Bene. E noi siamo bene. Belli, belli in modo assurdo. Ma anche in pandan, vestiti bene e uguali, c'è di verde. Ebbè, noi facciamo dei fitting qui. Voglio sapere, esatto, ma sarà così per tutto il tour? Soprattutto noi facciamo tendenza, capito? E non hai capito, eh? Chi comanda però nella scelta del colore, Viaggio? Prego, le donne, come sempre. Cioè, tutti i giorni dico, allora io oggi vado a facciamo R101, mi raccomando, vado a verde militare. E Viaggio, vedi tu, perché quando si veste rosa cosa fai? Sì, perché io non ho tutti colori, come lei. Io sono lì, sono l'ero, un po' di blu. Un po' di verde militare quest'anno. Un po' di fucsia, ma ogni tanto. No, ma dove sta sto fucsia? Beh, lo tengo nell'armadio. Ah, no, perché se me lo dicevi me lo mettevo. Laura e Viaggio pronti a partire, perché alla fine di giugno sarete protagonisti di questa calda, caldissima estate. Ma com'è che vi è venuto in mente di mettervi assieme per fare questa esperienza? Eh, chi vado io? Allora, il promotore sono io, perché ogni tanto ci sentivamo ultimamente un pochino di più. Perché le sai, lei girava il mondo, io invece ero, anche io in Italia, giravo le tournée, siamo stanchi, come stai, dove sei? Dele telefonate scoppiettanti. Ma anche telefonate, messaggi, sì, niente di figata. Ieri no, dove sei, messaggi sono stanchi, io sono in Brasile, poi dopo era in Honduras. Ma come in Honduras? Giù mi è andata? Non siamo andati in Honduras, è l'unico posto che mi è andata. Ma gli ha scritto un'altra, ragazzi, cioè lui si sta confondendo. Che gaffa. No, comunque. Alla fine la chiamo, no dai, fai te. Dai, vai, vai. Alla fine la chiamo e dico, è un petto verso il messaggino. Laura, noi per stare insieme bisognerebbe cantare insieme, perché sennò non ci becchiamo mai, dopo anni di collaborazioni, no? Di canzoni, di cose fatte insieme, tanti anni. E lei mi ha detto, è il momento, dai, prosegui tu adesso. È il momento. Mi ha detto, guarda, oggi pensavo, 2019, sinceramente, di fermarmi, perché per cinque anni non mi sono mai fermata, ho fatto troppa roba. Sì. Quindi, sono stanca, no, mi piacerebbe tantissimo, però non ce la faccio. Dopo due giorni, gli ho mandato un messaggino. Quando partiamo? Perché io non parlo, io non telefono, dovete sapere che ho questo grande difetto, io non sopporto telefonare e ricevere telefonate. Ma questo è un grande pregio, trovo. Sì, sì. Non so. Manda vocali, dai, vocali di mani. Esatto. Quanto lunghi? Ma vocali solo a te, poca gente, i miei genitori e basta. Ma quanto lunghi, Laura, rimango? No, no, poco corto, che roba. Non per dieci minuti. Io però invece i messaggini scritti sono lunghissimi, sono un incubo per loro, vabbè. Comunque, dopo due giorni, gli scrivo, ok, allora ti aspetto domani. Ed era sabato. Alle sei. Vieni con due giacche eleganti e per il resto ci penso io per la foto del manifesto. Io dico, quale manifesto? Hai già fatto tutto. Manifesto, dico io. Ma sì, ed è il tour, no? Non volevi fare il tour? Sì, vabbè, ho capito, ma adesso... L'avevo buttata lì. No, no, io c'ho ponuto, ma come facciamo la foto? Io avrei un'idea, mettiamo delle transenne e ci mettiamo davanti, alle transenne e facciamo una foto. Bella, dico io. Però le transenne, lei aveva già le transenne in casa. Già tutto pronto, grandissimo. Le aveva affittate. Cioè, lei aveva transennato la casa. Le donne sono pratiche. Cioè, lui pensa che io ho le transenne a casa, lui pensa a sta cosa. Ma le ho affittate, Biagio? Ma come fate in un giorno le affittate? Certo, mi sono organizzata perché io... Aveva i lavori in casa, eh. Ma lei, la Pausini, le transenne le affitta così... Vabbè, ma a Roma è pieno di posti dove affittano cose per lo spettacolo, per il cinema. Vabbè, comunque, siccome io dopo due o tre giorni sarei partita per un lungo periodo, non volevo annunciare questa cosa senza avere una foto ufficiale. Soprattutto volevo un attimo incontrarlo perché dovevamo anche dirlo alle persone con cui lavoriamo, perché nessuno sapeva niente, neanche l'agenzia. Ma quindi il tour alla fine è un protesto per vedervi un po' di più. Vabbè, quella è stata la base. Cantare insieme, vederci di più e scoprire il repertorio nostro attraverso un'esperienza nuova, inedita. No, io che canto canzoni sue, che nella mia vita non ho mai fatto. Adesso ci arriviamo a quello. E poi lei canta le mie. Posso dirti una cosa, Biagio? Io mi ricordo il tuo convivendo. Ma qui c'è la casa nuova, ma tu hai qualche... Già volevo capire davvero se hai qualche cosa su i cambi casa, traslochi. Ma lui innanzitutto è geometra. In più, io volevo fare architetto, ma anche lui voleva essere una sorta di architetto. Disegnatore, architetto. Sì, mi sento molto. Entrando qui nella sede, ci sono dei disegni bellissimi dalla città di Milano. Lui si è andato fuori di testa. Pensavo che volesse rifare la sede. Ma noi potremmo che rifare. Ditegli di buttare giù quella parte. Abbiamo aperto una società, io e lei. Accettiamo questo tipo di lavoro. I pausinacci ci sembriamo. Un immobiliare, praticamente. I calcestruzzi, i pausinacci. I calcestruzzi. Ragazzi, il tour sarà un'esperienza incredibile per voi, anche perché uno dell'altro... Cioè, canterete le canzoni l'uno dell'altro. Laura, qual è la tua canzone di Biaggio preferita? Se tornerai, sarà con il mio cuore in mano. Se tornerai... È una canzone di Biaggio che lui non ha mai fatto singolo tanti anni fa. E gli ho detto, mannaggia a lui. No, però meglio così, perché così me la canto tutta io. E Biaggio, la tua di Laura? Beh, ultimamente mi gasa molto... Resta in ascolto! Wow! Che tra l'altro lei fa... Che è una botta di adrenalina. No, ma lei... Io l'avevo capito che era rock. Perché lei dentro è molto rock. Ma non è rock finto solo perché hai la chitarra elettrica e hai i capelli lunghi, no? Di solito il rock era così, no? Lei è molto più... Sul parco è molto più rock di... Ma lei è romagnola! Posso fare nomi di molti che si definiscono rock star. Lei è proprio rock pesantemente. Ma addirittura? Ma cazzo, no? Va bene, mi piace, mi piace, mi piace. Ma di brutto! Sentite un po', il 15 di giugno ci sarà la presentazione di quello che poi sarà il vostro show e la partenza soltanto per i fan però a Roma. Sì, sì, sì. Tra l'altro tu esci da un grandissimo successo, 25.000 presenze a dicembre per i tuoi fan. Quindi insomma... Il Grammy. Beh, il grattino in Grammy. Un'art in Grammy. Di roba pazzesca. La fortuna. La fortuna di che? La fortuna? Ma è anche fortuna, Biagio, perché ci sono stati negli anni... Beh, ognuno di noi quando ci sono dei premi, tipo il Grammy o gli Oscar, queste cose qui, c'è il suo preferito, no? Quindi quando non vince quello che dici, ma come era giusto che vincesse l'altro, allora in quel caso ha vinto sicuramente una persona che è stata impegnata sicuramente, ha fatto un bel lavoro, però è stata anche fortunata. Cioè i premi a volte non manca quello. Ma no, ma sicuramente. Anche la nostra carriera è fatta... Di colpi, di fortuna, però di colpi di grande impegno che ti portano poi a non confonderla, perché la fortuna arriva, è che a volte noi la confondiamo e la usiamo male. Bisogna saperla anche riconoscere e sfruttare. Capisci? Questo è... Cara. Quindi che cosa ci dobbiamo aspettare, papà? Assetto, perché voi ci avete sempre dato degli spettacoli. Guarda, Biagio come primissima cosa, mi ha proposto una cosa, entra lui, inizia lui, è tipo California Dream Man, lui esce, si tira... Biagio è fisico, peraltro. Sì, perché adesso c'è Luca Tomasini anche che sta preparando le coreografie, no? Sì, le coreografie e i costumi che anche io... I costumi che anche io, esatto. Mentre lo dicevo mi faceva che anche io... Perché per me ha paura, no? Dopo la cosa di prima, della foto con le transaglie, dice, oddio, adesso mi devo spogliare. Ma poi nel frattempo succede un di tutti i colori, perché ogni giorno, tipo l'altro giorno, ho mandato una chat, perché io apro varie chat su... No, varie, apro un chat per ogni cosa. Allora, una chat che si chiama Props e Strumenti, si chiama, e per ogni canzone ho scritto, allora, in questa vorrei la chitarra elettrica nera, nell'altra... Chi suona l'acoustical? Lui a un certo punto, in un'altra chat, nostra da soli, mi scrive, ma sei sicura di tutti questi cambi colori di tante? Tu non ti preoccupare! No, mi ha detto, io ne chiedo, poi vediamo... Non dire, non devi dire! Non lo svergoglio in pubblico, però privatamente io... Questo se si può tagliare, perché, cioè, io gli ho scritto... No, no, teniamo tutto, no... Aveva già scelto tutta lei! Aveva già anche la scaletta! Ipotetica! E sai quanto durava la scaletta? 4 ore 50! Senti, ma allora, i difetti di Laura che proprio non posso portare... Mi sembra di capire che per organizza tutta lei... Allora, te l'ho detto, per me è un pregio la sua... Organizzazione, chiamiamola così! Maniacalità sul lavoro che non ho io... Oggi lo capisco... Cioè, capisco che è un pregio, capisco che se lei... Che vuoi controllare tutti! È una star internazionale! Non è per questo! Lo sai per questo! Mi viene normale seguire tutte le cose... A parte che mi piace, poi comunque mi sembra... Che sia rispettoso e anche doveroso dover stare dietro a tutte le cose di questo mestiere! Poi diciamoci le cose come stanno! Io sono comunque 26 anni che faccio questo mestiere, i primi 5 è stato veramente difficile, perché ancora oggi per una donna non è così semplice farsi conoscere in Italia, immaginatevi fuori, ricominciare sempre tutto da capo in ogni nazione, arrivare lì e vedere solo uomini dentro le radio, solo uomini nella discografia, bellissimo! Vabbè, c'è anche di peggio! No, no, però credi, la Cappiaggio è stato difficilissimo impormi, quindi ho cercato di capire che cosa dovevo fare, perché seguire dalla grafica, ovviamente la scrittura delle canzoni, l'unica cosa che non era difficile per me, era dover cantare, perché quello non lo faccio tecnicamente, quindi mi veniva... Tutto il resto invece è dovuto un pochino lottare. Aver studiato, ma comunque alla fine della tournée, io divento Biagio, cioè rilassata, proprio calma, e lui invece lo chiamerà, e mi dirà, no, adesso non posso, perché tu abbinare la giacca! Perché è quello di Biagio adesso, che mi lascerà, mi lascerà dentro una sorta di storia, che non potrò più staccarmi, vi siete contaminati, siamo contaminati. Visto che ormai sono tantissimi anni che vi conoscete, com'è che vi siete scelti all'inizio? So che Biagio ti ha scritto Laura a un telegramma, quando eri ancora a San Reo. Io lo vedevo da bimba, quando veniva a cantare con suo padre a Bologna, e quindi sentivo questa ragazza che gridava dei volumi, anche se non c'era l'impianto, comunque la sentivi, e tutta la gente mangiava, sentiva questa voce che comunque era potente. C'era il proprietario del ristorante che si chiamava Napoleone, che veniva ogni tanto e mi diceva, Laura devi basciare il volume, se no la gente non mangia più, e io gli ho detto, ma come faccio a cantare a Nox quel volume? Cosa fai? C'è una ragione. Non potevo farlo in più, il repertorio delle donne femminili degli anni Ottanta, era potente, cantavano, orlavano, gridavano tutte. Adesso va di moda tutto sottile, tutto soffiato, tutti i falsetti, ma allora davano della canna mica da ridere. Ma di brutto. Io vado a Saremo nel 93, e canto non so più a chi credere, e accendo il televisore, e la serata dopo c'erano i giovani, e vedo lei, e mi dice un amico mio di Bologna, l'esagerato di cognome, cioè di soprannome, mi dice guarda che, ma sai chi è lei? È la figlia di Fabrizio. Pausini. Dico, ma non ci posso credere. Era quella del ristorante. Era lei. E canta la solitudine come se, cioè sembrava, cioè un angelo, con questa, no, con questa, anche disinformazione nei confronti suoi, così naturale, con questa canna via. Adoro questa cosa che hai detto. Credimi. Disinformazione nei confronti miei. Naturale, nei suoi confronti, quindi capitata lì. E' un po' l'innocenza. Senza lei che troppo fosse volerlo, cioè una cosa, sicuramente, ma ingenua, però precisa. Dico, finisce di cantare, vince lei. È impossibile che non vinca lei. Chiamo mio fratello, che era a Milano, dico, Graziano, scrivi un telegramma a Laura, a Osini, dicendomi, se la più brava vincerai. E cos'è andata? Questo se l'è, c'è il telegramma. No, ma lui era nell'hotel di Franco al mio, eh. Io non lo sapevo ovviamente, però immaginatevi quando, cioè ti svegli la mattina, c'hai 19 anni, già sei a Sanremo e ti dici, non ci posso credere. E ricevi un telegramma di Biagio Antonacci. Io ho chiamato tutta la classe, dicendo, oh, mi ha scritto Biagio Antonacci. Mi sentivo di aver già vinto, capito? Però... Ho già vinto lì. Grazie ragazzi. Noi saremo a chiacchierare qui con voi, ci sei la gata. È già finita. Noi non siamo abituati a parlare poco. Neanche noi. Ma direi che a cantare poco, tra l'altro. Grazie di essere venuti qui da noi. Venite a vedervi. assolutamente. No, sarà bello, dai venite. Dal 26 giugno Bari fino a 1 agosto Adesso siamo in aprile, fine giugno cominciamo, poi tutto luglio. Avete un po' di mesi per ripassare, perché abbiamo 26, 30 anni di carriera. Ma vi sorprenderemo, attenzione. Bene, bene, ripassiamo. Ci saremo, ci riconoscerete dal casino che faremo. Bravi. Laura e viaggio, grazie per essere stati con il SR 101. A presto.